Il Comune di Penne riduce le tariffe tari per il 2021. La decisione è stata presa durante l'ultimo Consiglio Comunale dove la nuova delibera è stata votata a maggioranza e con il voto favorevole dai banchi dell'opposizione, anche del Movimento 5 Stelle. La riduzione della tassa dei rifiuti riguarderà attività commerciali e utenze domestiche, mentre un altro intervento economico è previsto a favore dei lavoratori autonomi e artigiani. Le riduzioni vanno dal 30% per quanto riguarda i bar, pasticcerie, gelaterie, parrucchieri e casalinghi fino ad arrivare all'80% a favore di palestre e associazioni sportive. Abbiamo previsto una riduzione tra il 30% e l'80%, quindi un'amministrazione comunale che è vicina a quelle categorie soprattutto a coloro che hanno sofferto di più l'emergenza sanitaria. Questo è stato possibile grazie all'economia di bilancio che insieme a ristori statali hanno permesso all'amministrazione comunale di comporre un fondo in grado di ridurre esclusivamente il costo della bolletta Tari. Ma non ci siamo fermati qui perché stiamo studiando anche un meccanismo per ridurre il costo della bolletta anche ai nuclei familiari, ad esempio ipotizziamo per quei nuclei familiari che hanno un disabile oppure che hanno perso il lavoro o hanno un reddito i se inferiore ad una certa soglia che stiamo appunto studiando. Il capoluogo Vestino a breve tornerà alle urne per eleggere il successore dell'attuale sindaco Mario Semproni che ad oggi non ha ancora sciolto le riserve su una sua ricandidatura. Intanto lo stesso assessore con delega al patrimonio e attività produttive Gilberto Petrucci traccia un bilancio di questi cinque anni di amministrazione a guida centrodestra. Questa amministrazione comunale ha lavorato tantissimo soprattutto per effettuare quegli interventi all'edilizia scolastica, una manutenzione straordinaria all'impiantistica sportiva. Abbiamo rilanciato il turismo e le attività di promozione della nostra comunità con eventi importanti come il Giro d'Italia o la donata interregionale degli Alpini. Ma soprattutto abbiamo anche utilizzato uno strumento fondamentale, cioè il dialogo. Siamo stati vicini ai cittadini e abbiamo posto le basi per programmare anche lo sviluppo di questa città perché vogliamo dare una visione a questa città, soprattutto puntando sul turismo e sullo sviluppo economico. Penne ovviamente a due blocchi occupazionali come Brioni e l'ospedale. Noi dobbiamo tutelare queste due realtà occupazionali.